stato così importante per l'ambiente dei sistemi industriali che magari fino a qualche anno fa poteva essere un ambiente più di nicchia, invece vedo con piacere che ormai è di interesse notevole. Allora, durante questo webinar cercherò un attimo di spiegarvi come si è avvoluto il comparto industriale nei secoli, nei decenni, fino ad arrivare a quella che è la situazione la situazione ad oggi e menzionerò alcuni standard che hanno l'obiettivo di aiutare a creare un corretto assessment periodico in ambienti industriali per assicurarsi di fare le cose per bene, di fare le cose in modo sicuro. Vi darò qualche dato sull'esposizione ad oggi di sistemi industriali, quindi di cosa a livello di sistemi industriali possiamo cercare in internet utilizzando delle attività di OSINT molto facilmente realizzabili e poi cercherò un attimo di spiegarvi quali possono essere le fasi implementative da seguire e alcuni consigli utili che magari potete poi portare al vostro interno, all'interno delle vostre organizzazioni, magari per fare qualcosa che in questo momento magari non è già così a regime, magari qualche dettaglio ancora manca all'interno dei vostri sistemi. Ecco Massimo, solo un secondo perché Antonio è entrato, Antonio se vuoi dire qualche cosa se no togli il microfono che diciamo in qualche modo è abilitato in quel momento. Niente, allora lo zittisco io. Ok, Luca attivo anche la webcam, poi vediamo se la mia banda è sufficiente per gestirla in caso la disattivo. Perfetto, bene. Ok, allora iniziamo con quella che è l'evoluzione appunto del mondo industriale e quelli che sono i rischi che questo mondo si porta dietro. Se andiamo un po' a verificare cosa è successo nei secoli, partiamo da fine 1700 dove l'industria era basata principalmente sulla forza data dal vapore, quindi sistema a vapore e siamo arrivati alla fine del 1800 dove effettivamente si è iniziato ad utilizzare energie elettriche in modo più efficiente, si è arrivati alla seconda generazione industriale dove si è iniziato ad avere una certa produzione di massa in diversi comparti. verso 1970 arriviamo alla terza generazione di sistemi industriali dove andiamo ad aggiungere notevole automazione in quelle che sono le attività dell'industria e dove andiamo ad inserire un concetto importante del computing, quindi delle macchine comunque che sono in grado di verificare i dati di produzione e sono in grado anche di dare una mano nella produzione stessa, fino ad arrivare in quello che viene definito l'industria 4.0, quindi dove siamo adesso in questo momento e dove si uniscono alcuni concetti relativi ad esempio al cyber, quindi abbiamo dei sistemi che sono interconnessi tra loro, non abbiamo più l'azienda il cui perimetro è ben delimitato, ma ci siamo aperti verso tutta una serie di elementi esterni nell'organizzazione. È qui che iniziamo anche a parlare di Internet of Things, quindi di oggetti connessi che non sono propriamente industriali, ma che in diversi casi fanno comunque parte del comparto industriale. Ed è qui che iniziamo a parlare anche di cloud, quindi ciò che all'interno dell'industria non si ferma all'interno dell'industria, ma arriva fino a sistemi cloud, quindi sistemi esposti. Quindi di conseguenza una serie di elementi in più da valutare, il perimetro si è allargato un bel po' rispetto al passato. Anche il mondo SCADA, quindi anche il mondo industrial control system, si è voluto, ovviamente qui abbiamo una storia un po' più limitata, non si va indietro di secoli, ma sono comunque qualche decina di anni. Nella prima generazione di dispositivi di sistemi SCADA avevamo un server SCADA centralizzato con le diverse remote terminal units che si collegavano al sistema centralizzato e quindi scambiavano i dati con lo stesso, ma era ben delimitato all'interno del comparto industriale. Con la seconda generazione ci è iniziato un po' ad allargare il perimetro inserendo diversi sistemi SCADA, diversi server che vanno a collochiare, che sono andate a collochiare rispetto al loro, e qui è assorto il primo problema, quindi andare a gestire anche server legacy, quindi sistemi magari che non erano più compatibili con quella seconda generazione. Quindi il primo problema, la compatibilità. Con la terza generazione si sono inseriti elementi ulteriori, quindi si è arrivati a un networker SCADA system, quindi si è iniziato a parlare con la rete IT. Il perimetro si è largato molto, quindi prima erano componenti all'interno degli impianti SCADA che collochiamano tra loro attraverso linguaggi proprietari, con la terza generazione appunto si è aperto anche il T6P e T, quindi un perimetro importante che è andato ad aumentare notevolmente. Con la quarta generazione appunto arriviamo a quello di cui ho parlato nella slide precedente come industria 4.0, quindi inseriamo gli oggetti della Internet of Things e inseriamo gli oggetti del cloud, aumentando a dismisura quello che è il perimetro che è necessario verificare. Se scendiamo un po' più nel dettaglio tra quelli che sono i componenti solitamente in un impianto SCADA, in un industrial control system, abbiamo quattro diversi livelli di norma, dove partiamo dal basso con un livello zero, dove c'è effettivamente l'impianto, quindi la parte fisica del comparto industriale. A livello 1 abbiamo i PLC, che vanno dispositivi programmabili che vanno a veicolare, a controllare quello che è il comportamento di valvole e sensori vari. A livello 2 ci alziamo e abbiamo quelli che sono i supervisor di computer, quindi dispositivi comunque che devono ricevere, gestire l'input output dei dati del PLC e andare ad avere una prima visione di quello che sta succedendo a basso livello. Fino alla seconda generazione, quindi l'impianto SCADA eravamo nel punto, in questo punto, fino al livello 2. Poi dalla terza generazione, dove si è inserita appunto la parte di networking, abbiamo anche il livello 3, quindi altri dispositivi di livello ICT, quindi Information Communication Technology, quindi l'aggiunta di protocolli diversi che comunque sono in grado di andare a creare una strazione, una vista su quelli che sono i livelli sottostanti. Tutto ciò si porta dietro, soprattutto nell'avvento della quarta generazione di impianti SCADA, una serie di minacce, minacce che sono proprie dell'ambiente IT, quindi sono anche a livello di IoT, quindi Operational Technology, ma sicuramente hanno più a che fare con l'ambiente IT, quindi Information Technology. Questa è un'immagine che è stata generata all'interno di un report di di Enisa, che vi spiego poi cos'è, che riporta alcune delle minacce che potrebbero andare a colpire i sistemi industriali. Vediamo che ci sono nomi che conosciamo, anche perché ne abbiamo avuto a che fare sicuramente con gli impianti, con i componenti IT, quindi si parla di malware in generale, virus, trojan, worms, si parla di exploit kits e root kits, quindi elementi un po' più complessi che vanno a gestire diversi componenti che possono essere utili ad un attaccante. Si parla di insider threat, quindi minacce che provengono dall'interno di un'organizzazione. Si può parlare di e-sdropping, di communication system, di ascolto di connessioni all'interno dell'impianto industriale, quindi qualcuno che si mette nel mezzo della comunicazione creando un money in the middle all'interno del comparto industriale. Si può parlare sicuramente di distributed denaro service, quindi comunque dobbiamo pensare che abbiamo dei sistemi che sono esposti in alcuni casi. Nel momento in cui sono esposti ovviamente possiamo essere target anche di attacchi generici distribuiti, ma potremmo essere anche target di questa tipologia di attacchi dall'interno, quindi ci scollega nuovamente a quelli che sono l'insider threat, un attacco di tipo distribuito denaro service non sempre arriva dall'esterno, ma può tranquillamente arrivare dall'interno. Abbiamo che fare con dati sensibili che possono essere rubati o possono essere pubblicati magari da qualcuno all'interno, quindi information leakage. Abbiamo sicuramente a che fare con advanced persistent threat, quindi minacce un po' più avanzate, un po' più complesse, che hanno come caratteristica comune quella di essere nascosta all'interno dell'infrastruttura, molto poco rumorose e quindi più difficilmente rilevabili da un altro esperto. Questi sono alcuni scenari di attacco, poi torneremo un attimo su cosa vuol dire scenario di attacco e come si fa a costruire uno scenario di attacco e perché è importante andare a rilevare questi scenari. Questi sono alcuni scenari di attacco che sono stati censiti sempre da Enisa all'interno dello stesso report dove trovate l'immagine nella slide precedente, comunque tutto poi è linkato nei riferimenti alla fine del webinar. Vedete che gli attacchi possono essere portati verso diversi ambiti del sistema industriale, del sistema SCADA, direttamente verso i server SCADA, verso gli attuatori, verso i sensori, verso la human interface. È possibile portare degli attacchi che vadano a installare delle backdoor direttamente all'interno dell'ambito ICT, quindi non l'ambito T, ma ICT dove magari ci sono le persone che attraverso il protocollo TCPIP si connettono al sistema industriale per vedere un'astrazione di quelle che sono le attività del sistema industriale stesso, oppure direttamente attacchi contro quelli che sono i dati storicizzati dai sistemi, magari per andare a modificare statistiche di produzione o quant'altro. Sono attacchi che non sono solo sulla carta, ma sono attacchi che storicamente sono stati portati e qui vi ho riportato alcuni degli attacchi che storicamente sono accaduti. Magari alcuni nomi li avete già sentiti nominare, sicuramente il più famoso di questi è Stuxnet, magari un è sentito parlare sicuramente di Triton, di Trisis, ma partendo da Stuxnet, questo malware che è stato creato, è stato il primo malware creato effettivamente con targhe e con obiettivo sistemi industriali. Era stato creato, si è saputo poi, dagli Stati Uniti, d'accordo con il governo israeliano e lo scopo di questo malware era andare ad attaccare e sabotare quella che era la centrale nucleare di Nathansa in Iran, disabilitando le centrifughe della centrale e impedendo il rilevamento del malfunzionamento. Quindi l'obiettivo di questo piccolo malware, piccolo proprio perché non erano molte righe di codici che erano state implementate, anche se molto complesse, l'obiettivo era quello di andare prima a sfruttare delle vulnerabilità lato sistema Windows, che era il sistema utilizzato all'interno delle persone della centrale nucleare per andare a visualizzare i dati di produzione, che erano governati dal software Step 7 di Siemens. Siemens, che poi questo software andava a gestire quelli che erano proprio i PLC. L'obiettivo era proprio andare a intervenire sul comportamento di PLC, giocando con questi programmatori, andando a aumentare e diminuire quella che era la velocità nella gestione dei componenti della centrale nucleare. Sono stati fatti danni veramente enormi in quei mesi, si tratta del fine 2009 e inizio 2010, ci sono stati diversi attacchi. Il problema, cos'è? Potrete pensare, ma non tutti andiamo a governare una centrale nucleare e quindi il problema sarà di che effettivamente ha questi sistemi. Non è del tutto vero, in quanto comunque sono andati ad attaccare sistemi che sono in uso in migliaia, centinaia di migliaia di aziende in tutto il mondo. I dispositivi Siemens sono molto diffusi e vanno al di là di quello che sono, di quello che è l'utilizzo all'interno delle centrali nucleari. Quello che è successo infatti in mesi successivi poi a questo attacco è che questo Malware, questo Stuxnet, si è diffuso anche al di fuori della centrale nucleare, si è diffuso dapprima verso i fornitori, i fornitori che andavano a fornire appunto le materie prime o comunque i componenti che venivano utilizzati all'interno della centrale nucleare. Siemens, la prima proprio di questi fornitori sicuramente, Siemens che in Germania non è a Timbuktu o chissà dove, di fatto sono stati attaccati diversi sistemi europei. Qui ci fa pensare… Ma secondo me sicuramente, ecco diciamo giusto anche per spezzare una lancia rispetto a Siemens è chiaro che magari gli apparati di nuova generazione hanno implementato della sicurezza, mi ricordo insomma anche recentemente una presentazione, lo stato degli apparati di quelli nuovi insomma sono assolutamente sicuri. È chiaro che nell'ambiente aziendale tendenzialmente ho un ciclo di vita insomma che si aggira intorno ai 20-25 anni, quindi magari ho l'ultimo Siemens di ultimissima generazione, però magari ho anche dei cattorci dell'età della pietra, insomma. Certo. Qui ci fa pensare comunque già il primo problema, quello dei fornitori. Qui abbiamo fornitori che poi sono stati… in questo caso sono stati la vittima, ma ci torneremo sopra poi, possono essere veramente anche l'attaccante e quindi è il primo problema. I fornitori dei componenti della centrale nucleare di Stuxne che sono stati colpiti a loro volta. Vedremo poi che è il problema anche il contrario, quindi quando è il fornitore che diventa veicolo di attacco. In generale quelli che sono gli attacchi che sono successi storicamente si sono trasformati da quelle che sono semplici attività di enumeration Stuxnet escluso, perché Stuxnet era effettivamente stato creato per fare dei danni. Dopodiché sono stati altri malware che avevano come obiettivo quello di andare a compiere delle attività di information gathering ed espionage. Quindi andare a rubare delle informazioni, ma non far danni. E questo è il caso ad esempio di AVEX. AVEX è un malware di tipo Rata, remote access Trojan, che era stato sviluppato da dei gruppi di cyberattaccanti russi e aveva come obiettivo quello di fare appunto cyber espionage all'interno di aziende dell'aviazione, aziende energetiche, aziende farmaceutiche degli Stati Uniti e dell'Europa. Da lì poi sono stati creati ulteriori malware, abbiamo i più famosi Black Energy, nella versione 1, 2, 3 sono malware che sono nati per fare attacchi di tipo Distributed Denial Service e nelle versioni più recenti sono diventati dei veri e propri rootkit, quindi ad esempio la versione 3 di Black Energy ha dei sistemi che consente di andare a fare network discovery, di andare a fare screenshot sulla macchina attaccata, di andare a fare stealing di passo, quindi andare a rubare informazioni presenti sui sistemi che vengono attaccati. Fino ad arrivare a Triton Trisis che ha messo veramente in difficoltà diverse aziende all'interno delle quali c'erano componenti di tipo Snyder Electric, Snyder è un altro dei vendor di dispositivi PLC che sta un attimo aumentando il livello di sicurezza appunto perché è stato decisamente scottato da ciò che è accaduto con il malware Triton e Trisis. Crash Override, anche quello ha fatto notevoli danni, è stato il malware che è stato utilizzato, se vi ricordate è arrivato anche su diversi media, quindi ha fatto parecchio rumore come attacco, era stata attaccata la centrale elettrica di Kiev, di fatto da un momento all'altro un quinto degli abitanti di Kiev, che non sono proprio pochi, è rimasto senza energia elettrica. Questi sono i malware più famosi che sono stati creati con l'obiettivo di andare a attaccare direttamente sistemi industriali, quindi non avevano altri obiettivi ma solo quello di attaccare sistemi industriali, solo per far capire quanto interesse c'è dietro a questa infrastruttura. Ora, alcuni standard e linee guida di riferimento che sono stati sviluppati nel tempo. Ci sono alcuni standard, probabilmente alcuni ne conoscete, quindi se parlo di ISO 27001 probabilmente tutti ne avete sentito parlare, tutti sapete di cosa si tratta, ISA IEC 62443 magari un po' meno. Questi sono i due standard di riferimento, ISO 27001 per l'ambito IT, ISA IEC 62443, anche detto ISA 99 perché ISA 99 è l'ente che ha sviluppato gran parte dello standard ISA IEC 62443, è stato sviluppato propriamente per l'ambito OT, quindi è quello lo standard che deve essere eseguito per fare un cyber security assessment sugli ambienti industriali. Poi ci sono delle linee guida che non sono meno importanti, quindi è importante andare ad adeguarsi ad uno standard ma è importantissimo anche seguire ulteriori linee guida come quello del NIST, SP 882, i documenti prodotti dal CPNI che vedremo poi di cosa si tratta, ENISA che ho già nominato e poi SIS Control che è un'alternativa utile sulla quale poi torniamo. Oltre all'aspetto delle linee guida è importante anche ragionare su cosa cercano gli attaccanti su questi impianti, in questi ambiti e un lavoro veramente certosino è stato fatto da Mitra. Mitra è un ente, no profit, che forse lo conoscete per quanto riguarda il censimento delle vulnerabilità, delle CUE che ogni vendor può rilasciare nel momento in cui vengono scoperte delle vulnerabilità sui propri software. Mitra è da qualche anno sviluppato un progetto parallelo che si chiama Mitra Attacca che ha l'obiettivo di andare a catalogare quelle che sono le tecniche, le procedure e le tattiche utilizzate dagli attaccanti, ma non attaccanti fittizi, attaccanti che sono presenti nel mondo reale, quindi nel momento in cui avviene un attacco che effettivamente ha un certo peso in un sufficiente numero di sistemi, questo attacco viene catalogato, viene osservato in modo puntuale cosa è stato fatto, quali sistemi è attaccato, quali sono le dinamiche di attacco e vengono censiti gli scenari di attacco che vanno a finire all'interno di quello che è il framework di Mitra Attacca. Mitra Attacca ha sviluppato dapprima un framework per la parte IT, poi una parte per la parte mobile e in ultimo ha sviluppato anche un framework per quanto riguarda gli industrial control system, quindi sono attacchi specifici, alcuni appunto sono quelli che vi ho nominato prima con i diversi malware che sono stati creati, specifici per l'ambito dell'industrial control system, quindi quello è un ottimo progetto che è in grado di dare dei risultati open, tra l'altro vengono anche esportati in formato sticks, quindi possono essere importati successivamente in ulteriori sistemi open, ad esempio in SIEM, per avere una visibilità di quelli che sono gli attacchi che gli attaccanti utilizzano nel mondo reale. Venendo un po' nello specifico dei diversi standard, per la parte operational technology appunto lo standard è l'ISA IX-62-443 o l'ISA 99. Lo scopo di questo framework, sempre più importante, è necessario in certi ambiti avere anche una compliance proprio verso questo standard, dall'importanza che sta rivestendo sempre più. L'obiettivo di l'ISA 99 è andare a definire quelli che sono gli elementi necessari per andare a stabilire un Cyber Security Management System, il CSMS, all'interno di impianti industriali, quindi all'interno di Industrial Automation e Control System, e per andare a fornire delle linee guida corrette, puntuali, specifiche, per sviluppare questi elementi all'interno della propria organizzazione. Ecco, Massimo, rispetto all'ISA 99, volevo solo dire sostanzialmente, diciamo che è appunto un qualche cosa che attendere verrà sempre più richiesto per quanto riguarda la compliance degli impianti, quindi chiaro che oggi chiedere una compliance ISO 99 su degli impianti industriali, almeno per le aziende italiane, direi che è un salto quantico, insomma, ma però attendere in alcuni contesti, vi posso garantire che è capitato, insomma, di clienti che fossero stromessi da gare per fornitura di impianti all'estero, quindi tipicamente paesi arabi, piuttosto che negli Stati Uniti, perché non avevano la compliance ISO 99, quindi in questo caso, su questo aspetto specifico, è in qualche modo necessario, prima di tutto, per chi fa impianti, diciamo, partire rapidamente, perché appunto è abbastanza complesso, e dall'altra parte cominciare anche a chiederlo ai fornitori che forniscono gli impianti, perché in qualche modo, essendo un framework di riferimento, può essere anche da stimolo, magari a quei fornitori un po', chiamiamo così, addormentati, che non tengono, non considerano le linee guida per quanto riguarda la sicurezza sui impianti industriali, quindi oggi cominciare a dire a un fornitore se il suo impianto è compliance ISO 99, comunque secondo me è un ottimo stimolo perché lui deve approfondire, insomma, chi approfondisca. Ok, grazie Massimo. Niente, venendo ISO 27001, sicuramente è lo standard fatto per l'applicazione su sistemi IT, non è così accurato però per essere utile anche su sistemi di tipo Operation Technology, quindi sicuramente è uno standard molto maturo per andare a governare quello che è un assessment su un sistema IT, però manca qualche buon dettaglio per l'ambiente OT, quindi bisogna andare a prendere il buono dell'uno e dell'altro per andare effettivamente a costruire un corretto assessment, anche perché i due ambienti viaggiano in parallelo, sono molto interagenti fra loro e quindi di fatto nell'industria 4.0 è obbligatorio fare un assessment su entrambi gli ambienti e utilizzare standard di riferimento diversi per fare questo assessment. Insieme agli standard sono altrettanto utili le linee guida, soprattutto questo NIST SP882. Il fattore principale più importante di NIST è che scrive documentazione, questo è un'intera statunitense, per un enorme numero di ambiti e quindi ha veramente una copertura molto importante. NIST non va a fornire quello che è uno standard completo, ma va a fornire delle raccomandazioni, come vedremo va a fornire delle raccomandazioni in ISA. Una delle cose che NIST nel documento SP882 fa di molto buono è andare a elencare quelle che sono le differenze tra i sistemi IT e i sistemi OT su diverse categorie, su diversi ambiti. Ad esempio vengono valutati quelle che sono le performance richieste per i sistemi. Sicuramente in un ambiente IT magari abbiamo necessità di avere delle performance non in tempo reale, viceversa nell'ambiente OT sicuramente il real time è molto importante perché dobbiamo fare comunque attività di produzione che rischiano di mettere in crisi l'attività di organizzazione. I requisiti di disponibilità, magari nell'ambito IT classica attività di travel shooting lo spegni e accendi, nell'ambito IT questo anche no, sicuramente non è così semplice. I requisiti a livello di risk management sicuramente nell'ambito IT è molto importante la data confidential e l'integrità, mentre nella parte OT system sicuramente la sicurezza la safety è l'ambito più importante insieme alla protezione del dato. Dal punto di vista dell'architettura, security focus che viene messo sull'architettura sicuramente in ambito IT appunto la protezione necessaria è l'IT mentre nell'ambiente OT magari l'obiettivo principale è andare a proteggere quelli che sono i sistemi centralizzati, quindi i server SCADA. Dal punto di vista della comunicazione, IT utilizza bene o male dei protocolli di comunicazione che ormai sono utilizzati come standard, quindi non ho grossi problemi a livello di comunicazione, mentre nell'ambito OT ci sono diversi protocolli proprietari che quindi ben difficilmente riescono a comunicare tra loro. Dal punto di vista del change management, il NIST fa un appunto anche su quello il change management in un ambiente IT è sicuramente molto più applicabile che non in un ambiente OT. Se devo fare un cambiamento nell'ambiente OT dovrò schedulare magari giorni prima, settimane prima questo cambiamento perché potrebbe essere effettivamente molto pesante a livello di conseguenze. Una cosa importantissima è anche il supporto che posso avere, solitamente nell'ambito OT magari ho più fornitori, più supporti diversi, nell'ambito OT solitamente ho un fornitore unico quindi di conseguenza deve andare scelto sicuramente molto molto bene. Dal punto di vista del ciclo di vita dei componenti, ho fatto un accenno prima a Luca nell'ambito OT solitamente i sistemi vengono ammortizzati nell'arco di 3-5 anni mentre i sistemi industriali mi durano 15-20-25 anni quindi tempo di ammortimento molto più elevato ma anche tempo di gestione molto più elevato e l'accesso ai componenti. In un ambito OT sicuramente ho molta più facilità di accesso ai componenti anche per fare un semplice discovery rispetto ad un ambito OT dove magari i componenti sono nascosti dietro a chissà cosa. Anche perché immagino fra 25 anni quale sarà la tattica di attacco fra 25 anni veramente è una cosa misteriosa. Il CPNI è un'organizzazione del Regno Unito, è simile al NIST o simile a quanto fa Enisa che ha l'obiettivo di andare a proteggere quelle che sono le infrastrutture del Regno Unito quindi è un ente che va a lavorare esclusivamente sulle attività sulle infrastrutture del Regno Unito ma è un ente che rilascia un bel po' di materiale open e quindi si può pescare anche lì per avere degli ottimi consigli per andare poi a implementare un corretto assessment all'interno delle proprie infrastrutture. Venendo ad Enisa, European Union Agency for Network and Information Security è l'equivalente del NIST e del CPNI ma è stata creata un ente creato specificatamente per quanto riguarda i paesi europei. Enisa già da anni sviluppa un sacco di materiale vediamo tra un po' di slide arriva alcune linee guida che sono state determinate da Enisa copre diversi ambiti sia della parte IT che della parte OT e sicuramente è un ottimo punto di riferimento per quanto riguarda gli ambiti IT e OT in Europa anche perché Enisa nel momento in cui sviluppa della documentazione lo fa complice con quello che è il GDPR e quindi seguire la documentazione Enisa sicuramente ci mette a riparo da eventuali enti che possono dirci ma non l'hai sviluppato in modo corretto. Sicuramente va tenuto conto anche proprio nella scelta del framework anche quali sono i mercati di riferimento cioè se io in qualche modo non so ipotizzo di utilizzare un framework di Enisa magari ipotizzo che il mio mercato sia quello europeo se invece ho un mercato americano sicuramente il NIST è il framework di riferimento cioè anche qui appunto bisogna in qualche modo seguire e scegliere il framework più giusto quello più neutro però anche come diceva Massimo assolutamente più generico è il 27001 cioè il 27001 è riconosciuto worldwide però è molto poco diciamo sul pezzo specifico su quello che è la parte degli impianti industriali. Grazie. Venendo ai SysControl SysControl sono sviluppati da Center for Internet Security ci sono diversi enti che collaborano col Center for Internet Security ad esempio il SANS e c'è un bel po' di documentazione per andare a mettere in sicurezza quelli che sono dapprima i SysControl quindi SysControl sono dei controlli su 20 diversi ambiti di una determinata organizzazione che devono essere seguiti per andare a rilevare quelli che sono i controlli di rischio già implementati e quelli che devono essere implementati è un ottimo strumento nel momento in cui è necessario andare a stabilire una situazione as is e andare a stabilire una situazione to be che si vuole andare a realizzare e consente di andare a implementare la serie di consigli utili a raggiungere appunto la situazione to be SysControl è nata per dare dei consigli sull'ambito IT ma si è poi sviluppata anche sull'ambito IT questi sono alcuni dei controlli che vengono svolti durante un'intervista che utilizza appunto i SysControl per andare a implementare un assessment sono ambiti molto vari all'interno dell'organizzazione si va dall'inventario dei sistemi hardware all'inventario dei sistemi software a una gestione nel continuo di quella che è l'esposizione e vulnerabilità la verifica di quelli che sono gli elementi difensivi sugli end point la dinamica di backup e recovery di sistemi la necessità di fare attività di vulnerability assessment e penetration test nel continuo la awareness dei dipendenti e quant'altro è veramente molto completa e magari può essere molto utile per chi vuole fare un assessment un po' più tecnico rispetto magari a quanto viene fatto con ISO 27001 non è chiaramente uno standard ma può essere seguito come linea guida venendo invece a Mitre Attack questo come detto è il progetto che viene sviluppato da Mitre Entrano Profit sono state sviluppate per diversi ambiti per l'ambito IT per l'ambito mobile per l'ambito industria control system sono state comunque mantenute le stesse tracce di realizzo di diversi ambiti quindi quello che viene fatto sono andare a identificare una serie di tattiche 11 diverse tattiche su queste tattiche vengono definite delle tecniche tecniche di attacco che gli attaccanti usano nel mondo reale e poi su queste tecniche vengono elencate le procedure effettive, pratiche che gli attaccanti mettono in atto quindi va proprio a fondo andando a definire quelli che sono i tool utilizzati e soprattutto quelli che sono gli elementi di rimedio quindi a fronte di un attacco vengono suggerite all'interno del framework Mitre Attack quali sono le configurazioni in lato sistema operativo o lato gestione di processi o lato awareness che posso andare a sviluppare per impedire queste dinamiche di attacco arriviamo ora alle raccomandazioni ENISA come detto appunto ENISA ENTE che si occupa di scrivere documentazione riguardo in generale quella che è la cyber security in ambito europeo ha scritto alcune raccomandazioni otto raccomandazioni che possono essere eseguite per ammettere in sicurezza quelli che sono gli ambiti industriali sono raccomandazioni che hanno come target sia le persone che vanno effettivamente a installare i sistemi industriali sia quelli che devono gestirle che soprattutto quelli che devono produrre i dispositivi che poi vanno a finire all'interno degli ambiti industriali la prima raccomandazione è quella di includere quello che è il concetto di security all'interno dei sistemi industrial control system e all'interno di SCADA fino a qualche tempo fa ma in molte realtà ancora oggi si parla molto di safety all'interno del mondo industriale ma non si parla molto spesso di security è utile andare a raggiungere anche questo questo concetto la seconda raccomandazione parla di management o di access privilege qui ha molto a che fare con due concetti importanti due principi importanti che sono il need to know e il desk privilege quindi all'interno di un'organizzazione e ancora di più all'interno di dispositivi industriali devo andare a stabilire quelli che sono i privilegi di accesso sui dispositivi stessi o sui server o su quelle che sono le human interface che poi hanno la capacità di farmi vedere cosa sta succedendo a livello di produzione solamente le persone che effettivamente devono mettere mano a quei sistemi e stessa cosa per il fornitore il fornitore che magari deve andare a collegarsi verificarmi l'impianto anche lì dovrò stabilire quello che è il need to know cosa deve vedere il fornitore e andare a stabilire i privilegi minimi necessari quindi su quello che deve vedere vado a impostare i minimi permessi non di più proprio per andare a ridurre ai minimi termini quello che è il danno eventuale che ne può conseguire da un'attività non fatta correttamente la seconda raccomandazione che NISA dà è sull'interoperabilità dei sistemi questo problema è abbastanza grosso all'interno dei sistemi industriali ma stiamo parlando di sistemi che magari utilizzano protocolli che sono stati sviluppati 30 anni fa che difficilmente possono parlare con protocolli che vengono magari creati oggi o con magari applicazioni che vengono create oggi è importante quindi nel momento in cui ad esempio all'interno dell'organizzazione entra una nuova tipologia di tecnologia andare a verificare che effettivamente sia la possibilità di interconnettersi con quello che è il sistema industriale esistente andando a verificare che effettivamente ci sia piena compatibilità tra le tecnologie la quarta raccomandazione è lack of communication questo molto spesso ha a che fare con scarsa comunicazione che c'è all'interno vedo organizzazioni dove magari l'infrastruttura OT viene messa in piedi in un ambiente stagno dove solamente chi si occupa di OT mette in piedi l'ambito OT ormai bisogna aprirsi soprattutto l'IT deve aprirsi verso gli scenari OT quindi i due mondi devono viaggiare in parallelo devono parlarsi e devono condividere tutte quelle che sono le informazioni che sono necessarie per mettere in piedi in modo corretto quello che è l'ambiente e permetterlo soprattutto in sicurezza di fatto quindi devono esserci molteplici conoscenze all'interno dell'organizzazione e queste conoscenze devono confluire all'interno dell'obiettivo che è quello della messa in piedi in modo corretto dell'infrastruttura industriale ecco questa cosa qua chiaramente le direttive le diciamo le raccomandazioni di Misa a volte poi si scontrano anche sulla sulla realtà quindi magari rifacendomi anche alla raccomandazione precedente cioè il fatto che il risultato di produzione sia diciamo sia formato sia consapevole insomma dei rischi negli impianti di produzione passa anche un po' per un approccio anche psicologico cioè non devo comunque se non deve essere una rivalità definisce le direttive devi magari dimostrare insomma la criticità in modo che la persona sia comunque un qualcuno che rema dalla stessa parte a volte sicuramente tempo fa insomma le reti le reti industriali erano compartimentate cioè la scusazione di produzione aveva il controllo pieno della rete magari quello che seguiva la parte informatica barra sicurezza informatica voleva introdurre magari degli aspetti in termini di sicurezza e però non riusciva a farlo anche qui la realtà secondo me insomma si sta un po' evolvendo avendo un po' di esperienza specifica su questa tematica è il fatto dove magari il vendor che prima diceva guardate qua sono io quindi non c'è nessun altro non avete delle alternative quindi ho una sorta di lock-in nell'ambiente di produzione che diciamo c'è anche in altri ambiti però specifico per quanto riguarda la parte degli impianti industriali cioè l'ottica è quella che comunque ci sono tutta una serie di standard che appunto con Massimo stiamo vedendo per cui comunque ecco cioè la forza di questo dei vendor o degli integratori insomma che arrivano e portano gli impianti e chiedono accessi a destra e manca il fatto insomma che ci siano delle direttive a livello europeo è importante quindi anche l'azienda tipicamente responsabile di T ha una forza nel chiedere la compliance rispetto a uno standard europeo che in qualche modo insomma può essere giustificato come richiesto assolutamente sì la quinta raccomandazione è quella che riguarda un aspetto molto importante che è quello degli aggiornamenti dei dispositivi di aggiornamento in generale di quelli che sono i componenti che sono all'interno dell'industria control system questo è un argomento molto scottante è un argomento che mette molto in difficoltà mette in difficoltà già nell'ambito IT nell'ambito T e ancora di più è necessario in ogni caso andare a includere all'interno del ciclo di vita degli oggetti la maggior parte dei sistemi industriali ha oggetti che nel momento in cui vengono implementati non vengono più aggiornati bisogna andare a ritagliarsi in modo corretto quelle che sono le finestre di manutenzione e questo deve essere ben chiaro già nel momento in cui si fa l'attività di design dell'industria control system la sesta raccomandazione è quella relativa al security training quindi in generale ha a che fare con l'awareness tutte le persone tutte le funzioni che devono andare a svolgere attività su quello che è comparto industriale devono essere formati su quelle che sono le diverse dinamiche di cyber security che ormai non si ferma più all'ambito IT ma va a finire prepotentemente anche nell'ambito IT la settima raccomandazione questa in isa la pone il livello più alto e quindi va a definire quella che è la necessità tra chi deve prendere le decisioni ad alto livello su come devono essere sviluppati i dispositivi che vanno a finire nell'industria control system a direttamente a quelli che sono i produttori di questi dispositivi e chi è poi gli operatori che devono lavorare con questi dispositivi deve esserci una collaborazione tra tutte le entità in modo che poi si riesca effettivamente a creare degli oggetti che siano facilmente utilizzabili facilmente migliorabili dal punto di vista della security e oggetti che siano interoperabili che siano compatibili tra loro questo fondamentale soprattutto nel momento in cui come abbiamo visto in industria 4.0 si vanno a inserire quegli oggetti della Internet of Things che molto spesso vengono sviluppati ognuno nel proprio praticello senza guardare un po' cosa c'è al di fuori massimo informazione di servizio sono le 4 quindi eventualmente diciamo tieni conto insomma del tempo che avevamo fissato insomma qui vediamo un attimo quello che potrebbe essere uno schema come concetto generale come implementazione all'interno di un'industria control system la cosa fondamentale che deve esserci è la segregazione qui vedete in questo schema diversi firewall diversi oggetti che vanno a segregare il traffico tra più e ambienti dell'industria control system e la segregazione è proprio il concetto sul quale dobbiamo lavorare dobbiamo lavorare enormemente su questo concetto e la rete industriale deve essere ben segmentata dal resto del mondo e all'interno di questo dobbiamo andare a stabilire in modo corretto quelli che sono i principi di need to know e last privilege ripeto appunto quanto detto precedentemente in modo tale da garantire accesso solamente a chi effettivamente ha la necessità di governare quegli oggetti e sulli stessi andare a gestire gli opportuni permessi è importante anche andare a stabilire quali protocolli viaggiano all'interno dell'industria control system nel momento in cui vado a unicare in modo corretto questi protocolli posso anche andare a scatenare delle notifiche nel momento in cui dovessero esserci delle varianze o a livello di protocollo o a livello di volume di dati scambiati all'interno dell'ambito industriale per quanto riguarda l'esposizione all'interno del mondo interno di questi oggetti vediamo che c'è veramente una forte esposizione gli Stati Uniti la fanno da padrone ma per via di numero anche di industrie presenti in Italia ben ci difendiamo quindi siamo al secondo posto come livello di esposizione di protocolli che hanno a che fare con l'industria control system sono dispositivi la cui esposizione può essere verificata attraverso attività di OSIN quindi a livello passivo posso tranquillamente andare a verificare cosa viene esposto da una determinata organizzazione e andare a verificare se quello che viene esposto è effettivamente qualcosa a che fare con dispositivi industriali questo posso farlo tranquillamente attraverso un motor di ricerca come Shoda che mi permette di specificare diverse keyword per andare a identificare uno o l'altro oggetto uno o l'altro protocollo mi dà delle ricerche già fatte già comodamente utilizzabili nel momento in cui un attaccante è in grado di identificare questi oggetti esposti è in grado anche di fare una verifica su eventuali vulnerabilità pubblicamente disponibili e magari exploit che vanno a colpire direttamente quelle specifiche vulnerabilità qui vedete exploit database con alcuni record di vulnerabilità e exploit siemens alcuni passi fondamentali per un corretto cyber risk assessment sono andato a elencare otto diversi passi che dovrebbero essere seguiti e il primo è l'andare a definire quello che è lo stato corrente quindi cosa ho all'interno dell'industria in questo momento e con questa attività che è un asset discovery vado a rispondere alla domanda di dove sono in questo momento vado a identificare quella che è la situazione esiste dopo aver fatto questo primo step vado a definire quello che è il target state definition quindi dove voglio arrivare arrivare vado a sviluppare quella che è l'idea di situazione to be vado a identificare quelli che sono le aspettative riguardanti controlli processi e procedure che dovrebbero essere implementate all'interno dell'organizzazione fatto questo ho la situazione attuale ho la situazione desiderata vado a stabilire un'attività di gap analysis per colmare questo percorso dalla situazione esiste alla situazione to be attività che deve essere ovviamente portata nel tempo quindi periodicamente deve essere aggiornata andando ad includere quelle che sono le minacce correnti le minacce di quel momento devo andare a stabilire come quarto step dei profili di minacce questo è importante sono diverse minacce che se sommate insieme possono andare a costruire dei scenari di attacco veramente molto impattanti più minacce messe insieme possono andare a livello percentuale a costruire degli scenari di attacco che sono decisamente più importanti rispetto all'utilizzo di una minaccia unica in questo ambito sicuramente entrano concetti quali vulnerabilità exploit minaccia attore di minaccia chi effettivamente fa l'azione di attacco e gli scenari di attacco è importante quindi utilizzare le minacce non come elementi univoci ma utilizzarle per andare a costruire degli scenari di attacco una volta che vado a identificare questi scenari di attacco è anche importante andare a stabilire però ogni minaccia quello che è il valore di rischio il valore di rischio è che vado a stabilirlo andando ad avvalorare due metriche importanti che sono la probabilità e l'impatto anche qui seguirò quello che è il framework che voglio per andare a fare rischio analisi ce ne sono diverse e l'importante è mettere nero su bianco quelli che sono i rischi specifici di ogni di ogni minaccia c'è poi lo step di remediation quindi sono andato a dare un valore sono andato a dare una priorità anche ai diversi rischi che sono andato a censire è importante andare a identificare quali sono le remediation per ciascun rischio diverso nel momento in cui vado a gestire le remediation vado anche a stabilire un'azione che posso dare sul rischio il rischio può essere trasferito ad esempio dando in carico una determinata attività in outsourcing può essere accettato quindi in quel caso avrò un rischio residuo può essere trattato per far diminuire il rischio e può essere eliminato andando a eliminare il rischio alla radice o quell'attività che va a generarmi il rischio rischi che possono essere assoggetati a diverse entità persone processi e tecnologia è importante poi assicurarsi di aver fatto bene i compiti a casa quindi la fase di benchmarking è quella che mi consente di andare a verificare che le remediation che sono andato a stabilire effettivamente vadano a matchare quelli che sono gli scenari di attacco rilevati in modo tale da capire se effettivamente sono coperto anche con minacce magari di un po' andare a stabilire ovviamente delle regole di proprie maturity per andare a sviluppare questi controlli questi step nel tempo quindi tutto deve andare all'interno del processo di deming per andare a gestire nel tempo tutte queste attività alcuni consigli pratici velocemente qui sono andato a definire alcuni elementi di criticità che devono essere valutati vediamo che sono suddivisi sui diversi ambiti quindi rischi che hanno a che fare con le persone rischi che hanno a che fare con i processi rischi che hanno a che fare con la tecnologia dal punto di vista delle persone è sicuramente fondamentale la collaborazione come abbiamo detto prima tra lo staff IT e lo T la collaborazione con quelli che sono i fornitori dell'impianto la sicurezza fisica e logica dell'impianto stesso la awareness si trovano ancora troppi dispositivi con le password di default dal punto di vista del processo è importante andare a stabilire in modo corretto quelli che sono i contratti di supporto su quello che è l'hardware e il software che ho in casa fare backup delle configurazioni avere degli strumenti all'interno dell'industria contro il system che siano sicuri by design questo è il GDPR che me lo impone andare a gestire in modo corretto l'accesso remoto ci torniamo sulla slide successiva andare a fare un assessment periodico andare a fare attività di hardening quindi miglioramento di sicurezza nel tempo e andare a stabilire come detto prima un processo corretto di update quindi di patch management sulla parte firewall infrastrutture di rete sulla parte di applicazioni dal punto di vista della tecnologia devo andare a gestire in modo corretto quello che è il ciclo di vita dei dispositivi andare a gestire quella che è l'affidabilità quindi failover alta disponibilità dell'infrastruttura devo andare a fare un pensiero anche sulla comunicazione wireless che sicuramente è molto spesso presente all'interno del sistema industriale devo andare a generare in modo corretto quelli che sono i log che possono poi andarmi a finire in un sistema di monitoraggio che poi può essere correlato all'interno di un software magari di più alto livello devo andare a stabilire dei canali di trasporto sicuri quindi qui si parla di cifratura come vado a gestire remotamente l'impianto questo è un aspetto importantissimo chi si connette all'impianto da remoto sono assolutamente le persone interne sono solamente i fornitori dell'impianto come si coneste a un sistema di controllo in 3, 4, 5G quello che è accede attraverso una VPN accede attraverso dei dispositivi messi in cloud e soprattutto con quali modalità vado a valutare i fornitori il fornitore è sicuro ho rischio di avere un sistema industriale sicurissimo segregato dove penso di aver fatto i lavori veramente in modo ottimo e dopo il fornitore invece che è super bucato ha un accesso VPN verso il mio impianto e ha una regola di allow all sul fireman non va bene devo andare a valutare bene quella che è la segregazione anche verso il fornitore dal punto di vista infine sui controlli di sicurezza attivi che posso fare sui sistemi industriali attività di vulnerability assessment e penetration test non è la stessa cosa vulnerability assessment è un controllo di superficie vado ad identificare prima con un asset discovery cosa ho all'interno dell'infrastruttura vado ad identificare le vulnerabilità col penetration test vado a provare a sfruttare quelle vulnerabilità in un ambiente OT è molto difficilmente realizzabile questo mi fermerò molto spesso alla fase di vulnerability assessment magari mettendo su carta poi quelle che sono le attività di penetration test che avrei potuto fare ma che non ho fatto per non andare a fermare la produzione anche dal punto di vista del mero discovery delle risorse interne all'infrastruttura devo andarci piano in primo step devo fare delle attività di discovery utilizzando protocolli cmp non di più gli step successivi poi potrò andare ad aggiungere qualcosa di più invasivo ma sempre utilizzando dei timing adeguati di scansione e senza utilizzare dinamiche di parallelismo quindi un dispositivo alla volta sempre andando a verificare in modo corretto la stabilità di quei dispositivi che sottopongo a scansione ecco questo è sicuramente massimo è proprio un aspetto importante perché a volte appunto magari diciamo l'esecuzione di penetration test in ambito industriale richiede comunque un'attenzione che a volte magari chi è partito con tools automatici per fare servizi di sicurezza non ha quindi parte magari con delle scansioni sulla rete OT che chiaramente brasano tutto perché gli switch non tengono non tengono sulla connettività cioè è chiaro che tendenzialmente la rete di fabbrica è difficile o raramente viene stata in qualche modo progettata in un'ottica IT e quindi magari dico tanto per semplificare l'ha fatta l'amico elettricista che era diciamo conoscente di quello della produzione insomma quindi l'attenzione nella configurazione è molto scarsa insomma è noto insomma il problema che tutta una serie di incidenti al di là di Stuxnet che giustamente hai citato però andando molto più vicino soprattutto anche in zona Emilia ci sono state tutta una serie di incidenti probabilmente dovuti alla mancanza di configurazione delle VLAN magari banalmente anche solo di diciamo segregazione fra la rete IT e la rete OT quindi ecco questo tipo di attività cioè l'attività di penetration test sulla parte fabbrica siccome nessuna azienda è come l'Enel che ha una azienda giocattolo dove può fare tutte le prove che vuole sugli impianti scada ma tutte le aziende hanno un'unica produzione quella è perfettamente operativa non la posso bloccare appunto l'attività va studiata e va ragionata molto con grande attenzione insomma ok Massimo sì ci sono era l'ultima slide credo sì no ce n'è ancora una su ecco i riferimenti qui sono importati un po' i vari riferimenti relativi agli standard e le linee guida che possono essere seguite per andare a fare un'implementazione corretta di quelli che sono i sistemi industriali ok allora beh intanto Massimo ti ringrazio della panoramica magari Antonio se vuoi visto che diciamo non c'eri all'inizio e ti abbiamo se magari vuoi prendere anche un po' il microfono appunto ringrazio Massimo anche perché appunto diciamo la presentazione come avete visto appunto non ha contenuti commerciali quindi non è orientata diciamo nella vendita di prodotti eccetera e chiaramente una panoramica specifica sul problema della sicurezza industriale era il primo argomento diciamo di interesse all'interno degli Angel magari Antonio se vuoi dire qualche cosa insomma rispetto a quelle alle slide iniziali che erano poi quelle in cui dove volevi magari dare un saluto ai partecipanti che chiaramente sono ancora ci sono ancora insomma sì sì mi sentite chiaro e forte sì sì perfetto sì mi scuso ancora per la mia latitanza iniziale ma anche anche qualcosa di saluto tutti tutti gli amici molti dei quali ho scorso rapidamente la lista dei partecipanti conosco personalmente altri ho avuto il piacere di conoscerli solo in maniera virtuale all'atto dell'invito in ambito CSA purtroppo ho avuto qualche problemino organizzativo interno negli ultimi minuti nei minuti iniziali e anche ve lo confesso un po' tecnologico perché ho rimpianto questo periodo di quarantena quando a casa io che sono stato uno smart worker senza figli piccoli potevo fare di tutto qui oggi pomeriggio ho fatto fatica a trovare stranamente un ufficio libero la connettività mi mancava il cavo mi mancava l'adattatore e adesso vi giuro che io sto sono connesso in tethering in 4G con il mio smartphone a mali estremi estremi rimedi i file ho troppo chiuso avevo un momento in cui non riuscivo a capacitarmi dell'impossibilità di connettermi via wifi e ho scoperto che c'era una porta che proprio bloccava il flusso audio video di any meeting per cui alla faccia della sicurezza vabbè siamo in chiusura di evento ringrazio anch'io Massimo penso che quello che c'era da dire inizialmente su CSA l'abbia come al solito in maniera eccellente detto Luca l'amico Luca io non posso altro che ringraziarlo ancora per questo spirito e questa abnegazione nel portare avanti questo nostro comune discorso sulla cyber security discorso che tramite CSA appunto come già detto e ribadito vuole coinvolgere un po' tutti gli uomini che in azienda si sono dediti alla cyber security questo è un po' lo spirito che motiva CSA nei prossimi prossime settimane a parte che mi pare ci sia correggimi se sbaglio Luca il 19 facciamo appunto questo webinar che era sul sul cloud security quindi qualche modo appunto Vittorio che appunto come dicevo è responsabile dei servizi cloud in Valentino Fashion Group parlerà un po' del tema visto che sicuramente lui l'ha approfondita parleremo anche dei temi chiaramente della share delle responsibilities in qualche modo anche se vogliamo in parte riprende anche le tematiche qui dell'OT security perché anche non più di qualche forse annetto fa insomma mi ricordo di essere di essermi alzato insomma a un evento dove si parlava di sicurezza in ambito industriale con la control room magari in cloud che magari potrebbe anche esserci e ci sta però ecco magari farla un attimino con Granusalis perché chi magari me la propone non è proprio sul pezzo sul tema della sicurezza industriale un conto è la posta un conto è aprire l'office 365 è un conto diciamo gestire completamente la control room in modalità cloud questo diciamo un po' per non credo di essere oscurantista ma proprio per problemi di sicurezza ecco che io volevo emulare Luca con il bel panel alle spalle con il chroma key ho trovato a scrivere la lavagna non so se si vede un bel viva la csa penarello post carico non importa va bene a parte queste queste strammatizzazioni che mi sono molto care e chi mi conosce mi può assolutamente giustificare e perdonare ringrazio ancora tutti per la partecipazione credo Luca che non ci sia altro molto altro da dire adesso mi scuso ancora se non sono riuscito a dedicarmici come volevo e niente ringrazio tutti gli amici i vari Massimo i vari Alberto Andrea Cesare Matteo Patrizio Riccardo se vuoi tutti nonché quelli che ci hanno già salutato perché siamo andati un po' lunghi mi pare di siamo andati ma non non più di tanto c'è un piccolo questionario se volete rispondere a un paio di domande diciamo a fine del webinar sarà comunque possibile sostanzialmente anche per chi ha dovuto uscire vederlo in streaming chiaramente diciamo ad accesso controllato quindi in qualche modo avete la possibilità di rivedere o chi si è riscritto e non ha potuto partecipare potrà comunque vederlo indifferita con la mitica mitica spilletta CSA che insomma in qualche modo mi ricordo anche le scene di Walter che ce l'aveva all'orecchio Walter Geromello ha fatto una foto che era diciamo appunto ce l'aveva ce l'aveva su gli orecchi insomma anche per sdrammatizzare beh io io ti confesso che normalmente io questa spilla qui guarda ti faccio vedere dove la porto adesso ecco qui è un distintivo nel senso che mi riesco a distinguere anche in queste occasioni va bene va bene dai perfetto ringrazio tutti ringrazio i relatori ringrazio ancora Massimo e grazie mille per le prossime per le prossime iniziative grazie ciao 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 grazie a tutti grazie a tutti Grazie.